se posso riprende io faccio vedere l'amica mia no faccio un video faccio un video che mi alzo è un avvocatessa chi è chi è si chiama evette saluta la te aspetta cioè reti dici così brevemente e non posso andare vai un amico di nazario tante belle cose ciao ti faccio vedere un po di foligno evette questo è il corso di qua c'è la piazza con il duomo ciao buona giornata